Quella che doveva essere una giornata di festa, iniziata in modo perfetto sotto tutti i punti di vista, è finita in modo tragico in pochissimi attimi. Due aerei della pattuglia acrobatica che si stava esibendo prima delle frecce tricolori, spettacolo previsto ad Alba Adriatica, si sono scontrati nel cielo di Tortoreto, precipitando in mare. Il pilota di uno dei due monoposto a elica, Marco Ricci, 47 anni, di Siena, ha perso la vita. L'altro, Luigi Wilmo Franceschetti, un bresciano 43enne, ha riportato ferite di poco conto ed è stato trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo. L'incidente è avvenuto durante una prova di contorno all'esibizione delle frecce tricolori in programma davanti al litorale abruzzese, davanti agli occhi di migliaia di spettatori. La pattuglia acrobatica in volo era composta da quattro velivoli che si sono divisi a coppie per eseguire un numero di volo a specchio. Quando si sono rigirati, per riprendere la posizione, i due velivoli si sono toccati con l'ala. Uno ha avuto l'ala spezzata ed è precipitato a picco in acqua, mentre l'altro è riuscito a planare e si è fermato, ammarando, poco distante dalla riva. Mentre il primo velivolo è caduto a pochi metri dalla spiaggia e quindi il pilota è riuscito a salvarsi, il secondo è caduto ad un miglio di distanza ed è affondato. Il pilota è così rimasto incastrato nella carlinga per diverse ore. Il corpo di Ricci è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno trainato il velivolo con un gommone dopo averlo fatto riemergere con palloni ad aria. Il sostituto procuratore di Teramo, Stefano Giovagnoni, ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Il pilota, che si è salvato, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il corpo della vittima è stato ora trasferito all'ospedale di Giulianova per l'autopsia prevista per la giornata di mercoledì. Intanto, secondo i primi accertamenti, Marco Ricci sarebbe morto a causa delle ferite riportate nell'impatto con l'acqua. Il corpo del pilota, infatti, presentava fratture multiple. Tra il pubblico alcune persone hanno accusato alcuni malori ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, sconosciute per ora le cause dell'incidente. Al vaglio anche un possibile malfunzionamento dei due aerei. Questa mattina, intanto, sono iniziate le operazioni di recupero dei due velivoli.